Presentato questa mattina il nuovo distretto sanitario di Roseto, quale sarà il compito di questa nuova struttura? Dunque, la nuova struttura andrà a sostituire quella attuale che sta nel centro di Roseto e che è ormai di forme da tutte le normative, invecchiata come struttura, come organizzazione. E in collaborazione con il Comune di Roseto oggi abbiamo presentato questa iniziativa che prevede il riutilizzo tramite alienazione della vecchia struttura l'utilizzo di un terreno messo a disposizione dal Comune di Roseto e la realizzazione di un nuovo distretto molto esteso come intensità anche di attrezzature e la realizzazione attigua a questo nuovo distretto di una RSA destinata alla gestione dei pazienti di questo genere. Quindi sarà anche un valido sostegno per i turisti che ogni estate affollano la cittadina riverasca? Sì, innanzitutto noi l'abbiamo fatto per mettere a norma tutta l'offerta sanitaria nel Comune di Roseto la parte distretto, la parte del sede del 118, c'è già la situazione del consultorio e anche quindi per dare una risposta più impegnativa all'ambiente e all'attività turistica di quella zona. Sarà situata peraltro al confine tra Roseto e Pineto nel territorio del Comune di Roseto però insomma è a metà della costa tra Roseto e Pineto. Roseto ha un difetto, quello di avere ad esempio il medico di guardia in un posto la Croce Rossi in un altro posto, il 118 in un altro posto, il consultorio quindi c'è purtroppo una diaspora delle strutture sanitarie con questo distretto sanitario di base noi vogliamo riunire tutte le strutture sanitarie tutti i servizi sanitari in un unico complesso e ci riusciremo. Grazie a tutti